In questo video ti dovrò scegliere la migliore scopa elettrica senza fili slash aspirapolvere in base alle tue esigenze mostrano in particolare i migliori modelli economici attualmente disponibili su Amazon. Questi modelli ovviamente sono stati scelti in base al rapporto a qualità prezzo quindi andremo a esaminare vari fattori come la potenza del motore, la pressione di aspirazione, la durata della batteria, gli accessori forniti e il rumore che generano. Quindi ti consiglio di segui il video da inizio fino alla fine per non perderti tutti i consigli e scegliere la scopa elettrica più adatta alle tue esigenze. Ed eccoci qua insomma ragazzi dunque in questo video vi mostrò in particolare 6 modelli, 6 dei migliori modelli in base alla loro fascia di prezzo. Partiremo prima dalla fascia economica più bassa ovvero quella degli 89 euro e 90 piano piano andremo ad aumentare il nostro budget fino ai 200 euro. Ovviamente questi sono i migliori in base al loro range di prezzo, più alto sarà il prezzo e ovviamente più avranno delle funzioni aggiuntive. Ma ovviamente questo non è equivalente per tutti gli aspirapolveri che troverete su Amazon ed è per questo motivo che ho scelto questi 6 in base alle funzioni che ci offriranno, in particolare come vi dicevo prima in base alla loro potenza di aspirazione, in base al loro motore, il vattaggio, la durata della batteria e gli accessori con il quale vengono forniti. Detto questo partiamo con il miglior modello economico sulla fascia di 90 euro. Abbiamo questo modello della Over, il Freedom. Pensate in questo momento è l'aspirapolvere elettrico senza fili più venduto su Amazon. Il motivo per il quale più venduto è che a soli 89 euro e 90 ha un prezzo davvero bassissimo, abbiamo tutte le funzioni basi di un aspirapolvere. Certo non le fa benissimo paragonato a quelli che andremo a vedere dopo e però ovviamente riguardo molti altri su questa fascia di prezzo molto spesso si trovano con delle ecensioni molto negative. Pensate questo a 4,3 su 5. Quindi funzionare funziona ad un prezzo molto basso. Purtroppo cosa gli manca rispetto ad alcuni modelli più costosi? Abbiamo una potenza di aspirazione molto bassa, siamo sui 7500 PA. È molto bassa e vi consiglio di andare sui 20.000 infatti molti modelli che vedremo più avanti nel video sono a 20.000, alcuni anche a 30.000. Ovviamente gli mancano anche degli accessori. Nel modello Basic che è quello più economico a 89 euro noi abbiamo la spazzola per aspirare anche il pelo degli animali. Per quello dovremo acquistare il modello Allergy and Pets che andrà sui 145 euro che non vi consiglio di acquistare perché su quella cifra abbiamo degli aspirapolveri decisamente migliori. Però sul modello Basic a 89,90 euro se questo è il vostro budget non avete grosse pretese questo è davvero un ottimo modello. Se però trovate in sconto questo modello della Jason D18 vi consiglio assolutamente di acquistare questo. Spesso sta a 150 euro ma certe volte lo trovano a 89,99 euro. Vi consiglio di controllare tramite il link in descrizione. Se lo trovate a 89,99 euro vi consiglio assolutamente di acquistare questo perché la potenza aumenterà notevolmente. Siamo pari a 17.000 di potenza di aspirazione, 250 watt per quanto riguarda il motore e abbiamo anche la spazzola per aspirare i nostri peli degli animali. Quindi davvero completo ve lo consiglio soltanto se però è in sconto 89,90 euro. Come possiamo vedere da qua spesso si trova a 150. Vi consiglio di controllare tramite il link in descrizione. In ogni caso il mio consiglio è quello di spendere 20 euro in più e andare sul prossimo modello che a mio parere è migliore per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. Il motivo è che a soli 109 euro grazie al coupon di 30 euro abbiamo questa scopa della Generic che ha ovviamente una funzione in più ovvero il filtro EPA. Il filtro EPA è molto importante per la nostra salute. In poche parole se non sapete cos'è è un nuovo sistema di filtrazione ad alta efficienza per i gas e i liquidi. Ovviamente nei gas rientrano anche l'aria e questo molto spesso viene utilizzato per quanto riguarda la pulizia dei automobili. Negli ultimi anni hanno cominciato a utilizzarlo anche come prodotto per la casa. Quindi ovviamente ci garantirà una migliore aria nel caso non abbiamo un sistema di filtraggio dell'aria. Quindi vi consiglio di andare anzi su questo modello e abbiamo anche un motore migliore visto che è pari a 22.000 per quanto riguarda la pressione appunto di assorbimento. Davvero molto buono. Abbiamo anche diversi accessori tra cui quello per quanto riguarda i peli per gli animali. Anche una batteria con una durata di 45 minuti. In poche parole è un aspirapolvere davvero completo con una buona pressione di assorbimento. Un filtro EPA ha un prezzo davvero molto basso con una buona batteria. Il prossimo modello è della Resal e dell'Elite One. A soli 125 euro abbiamo davvero un ottimo motore con una pressione di assorbimento pari a 26.000. Davvero ottimo. Allo stesso tempo è anche piuttosto silenzioso visto che arriva al massimo a 68 decibel. Quindi se siete interessati anche ad una scopa elettrica che non faccia troppo rumore con una buona aspirazione questo è il modello che più vi consiglio. Anche questo è dotato di filtro EPA come il precedente molto importante appunto per una buona pulizia della nostra casa. Ha un motore di ben 380 watt brushless. Se volete ancora più potenza vi segnalo anche questo modello sempre della Resal che addirittura arriva a 30.000 per quanto riguarda la pressione di assorbimento e 400 watt. Quindi è davvero un ottimo motore e addirittura una batteria che dura fino a 55 minuti. Molto importante perché molto spesso se dura 25 minuti potremmo effettuare solo una pulizia anche abbastanza velocemente. Quindi un'autonomia è davvero molto buona. In ogni caso vi consiglio anzi di spendere poco di più e andare sul modello della Pro Scenic il P11. Il motivo per il quale vi consiglio in assoluto questo modello è che ha tutto quello che abbiamo visto poco fa. Una potenza leggermente più bassa perché pare a 25.000 ma anche la funzione di mop. Quindi possiamo anche lavarci il nostro pavimento. Una cosa davvero ottima appunto. Questa scopa è davvero completa. Possiamo si assorbire con un'ottima potenza dato il motore da 450 watt, 25.000 di pressione di assorbimento e allo stesso tempo grazie a questo mop magnetico possiamo anche lavare il nostro pavimento. Davvero molto comodo. Come possiamo vedere anche dalle recensioni questo modello molto apprezzato dalle persone di tour a un 65% a 5 stelle. Questo è il modello che più vi consiglio perché a 200 euro ha tutte le funzioni e un'ottima potenza per quanto riguarda la pulizia del nostro pavimento. Davvero un best buy. In ogni caso se volete risparmiare e non vi interessa la pulizia ovviamente del lavapavimenti vi consiglio di andare su questo modello che a 109 euro ha praticamente tutto. Gli manca solo quello. È un motore che ovviamente non è il massimo ma comunque ha una buona durata, una buona pressione di assorbimento insieme anche all'E2one. Quindi questi sono i tre modelli che più vi consiglio di acquistare. Tutti i link ad Amazon sono qua sotto in descrizione. Se hai imparato qualcosa di nuovo ti chiedo di lasciare un bel like e un'iscrizione e noi ci becchiamo al prossimo video.